carissimi amici di fede cultura bentrovati buonasera vorrei continuare a proporvi l'interessantissimo e profondissimo libro di padre reginal garigula grange domenicano tomista di sicura dottrina la cui opera la casa editrice fede e cultura si è ripromessa di ripubblicare integralmente l'ultimo libro che è stato pubblicato cioè la madre del salvatore e la nostra vita interiore vedete qui la copertina in sovrimpressione è allo stesso tempo un compendio di teologia mariana cioè di tutte quelle quelle verità di fede cattolica che riguardano la santa vergine maria esposte in maniera semplicissima è accessibile a tutti senza per questo venir meno alla chiarezza e al rigore logico del metodo proprio di san tommaso d'aquino ma è anche un libro di teologia mistica dalla prospettiva mariana cioè che spiega in che modo possiamo perfezionare la nostra vita se prendiamo come modello maria e come punto di partenza della nostra meditazione quotidiana le grandezze i privilegi la santità sublime che caratterizzano ed esaltano la madonna sopra ogni altra creatura il secondo capitolo della prima parte dell'opera si intitola la pienezza iniziale di grazia in maria se avete già acquistato la vostra copia potete seguire insieme a me la lettura con commento di quest'opera e inizia in questo capitolo una bellissima riflessione su quella che è appunto la la grazia e in particolare il modo con cui maria è divenuta ricettacolo di questa grazia sovrabbondante ricevuta dal padre garigù lagrange vuole farci capire che cosa significa quando diciamo che maria è piena di grazia questo è infatti il titolo che l'arcangelo san gabriele le rivolge al momento dell'annunciazione e che leggiamo nel vangelo secondo luca leggo la grazia abituale o santificante scrive padre reginal è accolta nell'essenza stessa della nostra anima come un innesto soprannaturale che ne esalta la vitalità la deifica da essa derivano nelle nostre facoltà le virtù infuse teologali e morali e anche i sette doni dello spirito santo vale a dire tutto ciò che costituisce il nostro organismo soprannaturale che è in noi alla maniera delle virtù acquisite come una seconda natura in modo tale da esercitare con naturalmente gli atti soprannaturali e meritori delle virtù infuse e dei sette doni se la grazia abituale ci rende così figli di dio continua l'autore più avanti la grazia attuale o transeunte cioè transitoria ci dispone a diventarlo e poi ci fa agire sia mediante le virtù infuse sia mediante i doni o simultaneamente per mezzo delle une e degli altri da veri figli di dio questa vita nuova non è altro che la vita eterna già cominciata poiché la grazia abituale e la carità devono durare eternamente come si applica tutto questo a maria vediamo allora che possono esistere due tipi di grazia quella attuale e quella abituale ma che cosa è esattamente la grazia grazia è una di quelle parole di cui si sente parlare molto spesso e giustamente meno male all'interno della chiesa si parla ancora di grazia però non sempre abbiamo le idee chiare al riguardo la grazia è una vera e propria partecipazione alla vita di dio ci introduce nell'intimità della vita trinitaria e ovviamente noi cristiani riceviamo la grazia soprattutto mediante il battesimo e con il battesimo che il cristiano partecipa alla grazia di cristo che è capo del suo corpo cioè della chiesa possiamo dire che la grazia è il rapporto di amicizia tra dio e l'uomo nessun uomo privo della grazia di dio può dirsi davvero amico di dio lo si dirà piuttosto nemico perché il peccato ci rende schiavi della carne del mondo e del diavolo e ci rende di conseguenza nemici di dio anche se dio continua ad amarci ma da parte nostra non c'è quella predisposizione soprannaturale che ci rende meritevoli del suo amore tutta tutt'al più senza la grazia si può essere servi di dio così infatti furono chiamati tutti i grandi padri tutti i giusti prima della redenzione prima della morte di cristo sulla croce voi sapete che prima di cristo prima della croce nessun giusto è entrato in paradiso era necessario questo grande sacrificio per recuperare questo questo debito di che l'uomo aveva nei confronti di dio a causa del peccato antico ricordate le parole che gesù rivolge agli apostoli durante l'ultima cena non vi chiamo più servi ma amici in quel modo gesù sta anticipando agli apostoli quella che sarà la futura condizione degli apostoli stessi dopo la redenzione entreranno in un'amicizia piena con dio non vi chiamo più servi ma amici queste sono le stesse parole che dio rivolge ogni giorno a chiunque è in grazia di dio o a chiunque entra nella grazia tramite il battesimo o ritorna alla grazia tramite il sacramento della confessione non dobbiamo dimenticare è un gravissimo pericolo quello che oggi la chiesa corre quello di dimenticare di non dire di non insegnare che ogni volta che pecchiamo mortalmente e basta un piccolo peccato mortale piccolo ai nostri occhi incapaci di vedere la vera essenza delle cose ma che davanti a dio evidentemente piccolo non è ogni volta che pecchiamo mortalmente noi perdiamo la grazia c'è questo legame di amicizia che ci unisce a dio il catechismo così come la dottrina cristiana la scrittura parlano chiaro basta un peccato mortale per meritare l'inferno dopo il peccato di adamo e di eva nessun uomo è stato capace di meritare la grazia di dio certo ci sono state varie prefigurazioni il sacrificio di abele l'agnello della pasqua di mosè e così via ma erano tutte prefigurazioni e dio tramite quelle prefigurazioni voleva istruire israele per comunicare l'insufficienza di tutti gli sforzi umani sia naturali sia nell'ambito della sfera religiosa l'inutilità ecco nel l'impossibilità da parte dell'uomo di colmare un debito così infinito perché l'uomo con il peccato originale ha perso un dono infinito che dio ha dato all'uomo cioè ha perso dio stesso perché non dobbiamo dimenticare che la grazia è lo stesso dio cristo e la grazia quando dio ha creato l'uomo non come dire non aveva nessun l'uomo non aveva diritto della grazia divina è stato dio che per una sovrabbondanza d'amore ha donato all'uomo a questa creatura la sua amicizia la sua grazia per questo si chiama grazia perché è stata data gratuitamente cioè senza aspettare dall'uomo una corrispondenza in termini di natura e quindi ecco nulla da parte dell'uomo poteva ripristinare poteva colmare questo debito neanche la morte di un giusto come poteva essere la morte di isacco vi ricordate abramo era pronto a sacrificare isacco e in realtà quel in quel sacrificio c'è stata l'intenzione di colmare il debito del peccato antico ma dio ferma abramo ferma la mano di abramo perché nulla da parte nostra può colmare questo questo antico debito era necessaria l'incarnazione solo dio poteva colmare il debito che l'uomo aveva contratto contro di lui è incredibile quindi prendere questa consapevolezza capire fino fin dove arriva ecco l'amore del signore ecco quindi eppure noi vediamo che nel vangelo ancora prima della redenzione un angelo quindi una creatura spirituale nobilissima si degna di chiamare maria piena di grazia questa è una delle tante prove scritturali dimenticate dai non cattolici ma che provano il dogma dell'immacolata concezione di maria come poteva essere maria piena di grazia se è vissuta prima della redenzione nata prima della redenzione sicuramente al momento dell'annunciazione l'evento della croce non c'era ancora stato come possibile allora ma maria non è semplicemente in grazia di dio ella è stata trovata dall'arcangelo piena di grazia che qualcosa in più noi sappiamo che la grazia viene riacquistata con il sacramento della confessione e ogni volta che ci confessiamo noi acquistiamo quella che padre reginalda di goulagrange ha chiamato facendo eco a santo maso grazia grazia abituale che vuol dire grazia abituale cioè come un abito che noi portiamo in ogni momento della nostra vita e bisogna distinguere questa grazia dalle grazie attuali le grazie attuali sono quelle che anche comunemente si chiamano grazie come quando diciamo ho ottenuto una grazia da dio sono cioè quegli interventi divini che si presentano come dice tra l'altro anche il catechismo della chiesa cattolica sia all'inizio della conversione sia nel corso dell'opera di santificazione maria allora era traboccante sia di grazia abituale sia di grazia attuale maria aveva continuamente grazie speciali del signore virtù infuse doni soprannaturali che davvero la rendevano speciale privilegiata il fine di questa sovrabbondanza di grazia è ovviamente da ricercare sempre nell'incarnazione attenzione anche la purezza di maria c'è stata in virtù della redenzione i meriti di cristo sulla croce sono stati per così dire anticipati in maria per questo motivo original garigula grange scrive a ragione che la maternità divina di maria è il dogma mariano principe da cui tutti gli altri dogmi incluso quello dell'immacolata concezione e discendono e perché maria doveva essere immacolata per generare gesù capite bene che l'immacolata concezione di maria è tra tutte le grazie ricevute dalla madonna quella più sublime noi dimentichiamo a volte che dio non ci ha creati come spiriti ma come corpi se dio ci avesse voluto come creature spirituali ci avrebbe creati direttamente come angeli ma ci ha voluti uomini questo significa che il corpo la materia è intrinsecamente buona agli occhi di dio non è malvagia anche se ormai è ferita dal peccato originale la redenzione non riguarda allora soltanto lo spirito soltanto l'anima ma ci coinvolge integralmente come corpi ecco perché c'è stata la resurrezione ecco perché la redenzione stessa non ha potuto fare a meno di coinvolgere non solo l'anima di gesù ma anche il suo corpo il sacrificio di cristo ha riguardato sì la sua anima con la sua umiliazione la tristezza profonda l'angoscia nel gezzemani la consapevolezza di essere ripudiato da migliaia di anime nel corso dei secoli ma riguardato anche il suo corpo con la flagellazione gli sputi le percosse l'incoronazione di spine la fatica di salire al calvario sotto la croce i chiodi che hanno trafitto le mani e i piedi la lancia che ha trafitto il costato le lunghe ore di agonia sotto il sole caldo e diretto sul golgota se la carne non avesse ragione di essere redenta cristo non avrebbe sacrificato il proprio corpo invece egli accettato di vedere schiacciata la propria carne come quando si schiaccia il grano nella macina per dare vita a un corpo nuovo proprio come il pane da vita nuova e fragrante al grano che prima si trovava grezzo e separato nei campi allora perché maria doveva essere immacolata per generare gesù perché gesù per essere davvero ostia perfetta gradita al padre non doveva semplicemente essere unita a dio ma doveva essere pura doveva essere doveva avere un corpo puro come quello del primo uomo ecco perché si dice che gesù è novello ad amo ma per essere generato in maniera pura ecco che quel corpo che doveva contribuire alla sua gestazione alla sua formazione fisica doveva essere a sua volta puro il corpo divino di gesù non poteva contaminarsi con il peccato questa è una cosa bellissima e incredibile sulla quale meditare io davvero non capisco come cristiano come possano esserci altri che si dicono cristiani e che non credono nel dogma dell'immacolata concezione di maria e che si rifiutano di tributare alla nostra madre del cielo l'onore che le spetta è veramente molto difficile per me capirlo capite allora perché la madre del salvatore davvero deve essere depositaria di una grande venerazione da parte nostra e deve costantemente essere un modello per la nostra vita spirituale e questa in fondo è l'intenzione che accompagna l'opera di reginali garigù lagrange la madre del salvatore e la nostra vita interiore capite anche perché vi conviene acquistare quest'opera leggerla meditarla in maniera approfondita vi consiglio di acquistare proprio questo libro sul nostro sito www.fedecultura.com trovate come sempre il link del libro sotto la descrizione di questo video oppure del primo commento qui sotto fissato in alto o anche al termine del video sulla destra in alto comparirà un riquadro con la copertina ci cliccate e verrete subito indirizzati alla pagina dell'e-commerce grazie come sempre della vostra attenzione spero di aver suscitato il vostro interesse per questo libro davvero profondo e interessante e noi ci vediamo come sempre sul canale youtube di fede cultura per un prossimo appuntamento grazie per la vostra attenzione buon proseguimento di serata cari amici di fede e cultura vi ricordo che abbiamo avviato una raccolta fondi per pubblicare l'autobiografia del grande sacerdote stanley yaki la materia di una mente in home page sul nostro sito trovate nella sezione in evidenza per voi la pagina prodotto di questo libro che per ora è ancora un progetto e che potrete sostenere acquistando il libro nel formato che trovate sul sito cartaceo con donazione il vostro generoso contributo ci aiuterà a diffondere la conoscenza di questo grandissimo storico della scienza cattolico padre stanley yaki grande benedettino grande scienziato stanley yaki ha saputo dimostrare che scienza e fede cattolica non sono incompatibili ma sono le due ali che elevano la nostra mente verso dio che ci garantiscono una comprensione migliore della nostra vita e della realtà meravigliosa che ci circonda sostiene anche tu il progetto la materia di una mente l'autobiografia intellettuale di stanley yaki sul nostro sito www.fedecultura.com 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 www.fedecultura.com